E poi con Penny abbiamo in programma una serata tra donne. Serata fra donne, vuoi chiarire? Il solito ci si vede, si esce, si fanno discorsi da donne. Sono una donna? Ah, se ti va puoi venire anche tu a Berto Penny. Non occorre, con Penny siamo molto intime. Dici davvero? Certo, abbiamo le mestruazioni sincronizzate.